Ciao Deus Video! Questo sarà un video veramente semplice, semplice, semplice e easy ma volevo darvi solamente una comunicazione volevo parlarvi che Panic Gamers, ossia Elvis il bravissimo Elvis del canale Panic Gamers ha caricato sul suo canale in questi giorni sta caricando quindi ha fatto puntata 1 e puntata 2 di una storia che ha creato lui una storia di ambientazione horror che ha tema gli zombie ma zombie è un più alla sopravvivenza tipo, come si può dire, tipo alla film 28 giorni dopo una cosa del genere, no? Per dire e quindi è davvero molto interessante è studiato bene e l'idea, come è stato realizzato perché ti mette l'atmosfera giusta anche senza arrivare a utilizzare cose fantascientifiche ma tramite quell'ambientazione la maniera di come della musica e tutto il resto e questa questa tenebra, no? questa oscurità, diciamo nelle stanze, eccetera ti evoca la giusta la giusta atmosfera, io penso quindi sta facendo veramente un bel lavoro e adesso ci sono questi cortometraggi, no? che ogni tanto mette quindi è puntata 1 che era l'Apocalisse adesso è puntata 2 con l'Eterno no, scusate cosa dico, cosa dico Eterno è il nome del racconto diciamo e poi l'Apocalisse quindi è capitolo 1 e poi dopo c'è il risveglio ecco e niente volevo suggerirvi appunto di seguirla perché secondo me è davvero molto interessante è partita davvero molto bene e quindi diamo valore a questi progetti creativi questi progetti che creiamo veramente interessanti coinvolgenti eccetera io la seguirò senz'altro seguitela anche voi e vi metterò il link della cosa ciao a tutti ciao Elvis ah Elvis dovevo anche chiederti una cosa perché ho una launchpad che non no, no, scherzo, scherzo non ho delle launchpad quindi no, 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 no non ho problemi con le launchpad no niente un salutone grosso a te, Aaron a tutta la famiglia eccetera ma vabbè è il Panigames in generale e voglio fare anche un saluto ai ragazzi della GFG Community ciao ciao